Prossimo 1 agosto all'annunziata di Cosenza prenderanno servizio 17 nuovi infermieri che hanno firmato il contratto di lavoro a tempo indeterminato. La determina di assunzione è stata pubblicata oggi all'albopletorio, ne dà notizia la direzione dell'Ao di Cosenza che fa sapere inoltre che il reclutamento odierno si inserisce nel piano assunzioni elaborato dalla direzione aziendale che prevede l'immissione e il ruolo di 60 unità di cui solo 10 sono stabilizzazioni che peraltro saranno effettuate nei prossimi giorni e quindi 50 rappresentano un nuovo personale. Una boccata d'ossigeno per la sanità cosentina costretta a fare i conti con un problema atavico quello della carenza di personale infermieristico e os acutizzato in questi ultimi mesi. Il contenimento del turnover che ha caratterizzato e continua ad essere elemento distintivo delle assunzioni nella nostra regione unito alle misure di anticipazione del pensionamento rendono di fatto difficoltoso se non impossibile fino anche il raggiungimento dei livelli percentuali minimi nel rapporto infermieri pazienti. Le nuove 50 unità di personale infermieristico certamente non saranno sufficienti evidenzia la direttrice del Citros il servizio infermieristico tecnico riabilitativo ostetrico sociale a colmare il gap che si è creato nei precedenti anni di blocco del turnover ne siamo consapevoli ma serviranno sicuramente a dare respiro ad un contesto lavorativo particolarmente affaticato e non solo dalla carenza di organico.